E per tutti ragazzi sono Maximus e sono qui nel prossimo video ragazzi sto urlando perchè oggi E usciranno due video perchè oggi abbiamo raggiunto i due mi piace ragazzi Quindi oggi un altro episodio e andiamoci ad aprire questo pacchetto oro Ragazzi sono gasatissimo vai pacchetto bronzo vai che ci troviamo la leggendaria In verità esistono solo epiche r comuni e rare epiche sono troppo gasato Andiamoci a giocare la partita multigiocatore vai ragazzi Ragazzi mi avete consigliato warmax.io mi sa che uscirà il mese prossimo perchè è difficile trovare una partita Quindi io lo registrerò un mese dopo perchè poi non mi funziona poi tanto bene Quindi sistemo qualche problema e poi registriamo Già trovata la partita? Ragazzi sono gasatissimo perchè questo gioco mi sta sfingendo troppo Finora che ho scoperto questo multigiocatore sto facendo solo multigiocatore Dovrò provare la... Porca miseria... L'arena ragazzi che non so cosa potrebbe essere quindi non so Penso che ti arrivano tanti minuti di quei nemici Finché muori Allora siamo arrivati primi nel precedente episodio Oggi ci volevo riprovare Già hanno ucciso uno Jesus è primo con quattro punti e la va appena Ma perchè hanno lasciato la partita? Ok L'utente si è connesso benissimo Porca miseria mi sta rompendo muori 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 Mi hanno rubato una kill ma mi sembra normale Orca miseria hanno fatto l'aggiornamento l'hanno ingredita sta macca mi sembra più grande Muori Vuoi una bomba? Vuoi una bomba? Peccati sta bomba fratello Muori fratello muori 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 Quasi morto mi stanno prendendo da dietro Guardateli Porca miseria ora ci Ora sclero di brutto Muori Porca miseria dov'è? No 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 Beccati sta bomba Jesus muori Jesus muori Porca miseria mi si bugga il gioco Sto gioco del cavolo E' di qua E' di qua tu Tu vieni qua E' morto Yeah Vaffan bene Il frefonte aveva Porca miseria Ora mi mi si dio Ora andiamo con le dure Fucile a pompa e ora vediamo chi vince Porca miseria solo 3 punti c'ho ragazzi Jesus si ha 14 punti C'è ragazzi Non mi sembra normale Non mi sembra normale Porca miseria nemmeno io l'ho ucciso Vieni qua Oh alleluia L'abbiamo fatta Beccati questo Guarda 30 anni per ricaricare Velocità Dai che Stiamo recuperando piano piano Ancora 3 minuti mancano Porca miseria Morto è morto è morto No Maledetto 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 Si Si Rivalsa Mamma mia Abbiamo ottenuto vendetta E ora andiamo a vincere Porca miseria muori 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 Si ragazzi 11 punti 11 punti 11 punti Il primo è a 18 punti Va bene Siamo terzi Siamo terzi 21 punti Ma state a scherzare No 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 mi stanno ammazzando Ok c'è quello c'è quello c'è quello c'è quello che non ha visto niente Che scemo Scemonito 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 Porca miseria Fattene a quel paese Senti a me Ti conviene Mi mancano 10 punti per superare il primo Per essere a pareggio con il primo Dai Guarda Jesus Jesus Dove vai? Dove vai Jesus? Jesus 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 Dove sei Jesus? Jesus 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 Si davanti mi deve nascere ora Jesus Vieni qua veloce Muori Muori Ciao Jesus Porca miseria Mi metto a scherzare Sapete quanto? Porca miseria Mi si becca pure ora Ragazzi Sto scherzando Bravi Lasciate la partita Jesus è tornato Primo Primo Tu devi morire Devi morire Devi morire FF Muori Muori FF Devi morire Passa con la macchina Sì Tanto Vedi Tanto Piedere Vecca di cosa Ah boh Non ci è arrivato mai Ammazzavo io Ammazzavo io Jesus Porca miseria E vaffanculo Secondo Dai Secondo Sono arrivato Dai Per quanto Va bene ragazzi Io direi che possiamo concludere qui Perché se ne faccio un altro Sclero Come un cane Quindi lasciamo stare Quindi ragazzi Io direi che questo video Può pure venire qui Noi ci rivediamo Al prossimo video Bella ragazzi